Possessi raccontare qualcosa del tuo lavoro per l'Elite? Sì, abbiamo iniziato il nostro partner in 2016, più o meno due anni fa, e abbiamo deciso di lavorare con l'Elite, perché vogliamo rinnovare i mercati capitali in Hungria. E abbiamo pensato che questo programma ci aiuta a dare un servizio a Hungrian SMEs che preparano loro per diventare un servizio o per usare altri modi di finanziare capitali, come finanziare capitali, finanziare privata o altre formi, che non sono troppo conosciute tra i Hungriani SMEs. E quanti compagni hanno mostrato interesse per il programma? Beh, questo è un processo. Prima di tutto, bisogna farvi che i Hungriani sappiano questo programma. come Budapest Stock Exchange, ovviamente molto conosciuti in Hungria, ma questo è un partner è stato un nuovo, due anni fa, e abbiamo avuto molti conferenze, programmi insieme, e insieme adesso 12 Hungriani compagni hanno iniziato il programma. Abbiamo anche molti altri compagni che ci sono già aware di questo, e spero che ci saranno in più più grandi numeri nei prossimi mesi e anni. E quali tipi di firme potete inviare? Credo che sia principalmente riguardo le società di mid-cap, quindi è anche parte della nostra strategia, di proporzare servizi a mid-cap, non solo a large-cap. Perché la maggior parte delle persone pensano, credo che il nostro intervento intervento sia principalmente le maggior parte delle compagni, ma non è ancora vero, perché abbiamo molti altri servizi che possono essere applicabili a piccoli compagni, come si parla di mid-cap. Quindi credo che l'Elite è un programma utile per ottenere tutte le cose necessarie, come potrebbero realizzare con l'utilizzo dei mercati capitali. Qual è il passaggio che vedete? Il passaggio con l'Elite è chiaro. è chiaro, dobbiamo rinforzare più e più compagni, dobbiamo rinforzare in questo programma. E qual è il secondo passaggio? Vediamo una conversazione da partecipare in l'Elite programma all'elite, da partecipare in l'elite, da partecipare in l'elite, da partecipare in l'elite. Ci aspettiamo di avere il primo listaggio da l'elite programma nelle prossime settimane. Potremmo aggiungi qualcosa? C'è una buona programma e siamo molto felici con l'Elite per l'elite di essere partecipare in l'elite di essere partecipare in l'elite di essere partecipare in l'elite. Quindi, ci aspettiamo di crescere in l'Unione, in l'Unione, in l'Europa.